Il punto più importante è continuare a dare dignità ai cittadini di Casa Micciola perché ritengo che la strada intrapesa l'anno scorso debba essere continuata. Noi, contrariamente a quello che si dice, abbiamo messo i cittadini al centro del nostro progetto e chi vuole avere una conferma di quello che sto dicendo basta che va a leggere il programma che abbiamo presentato stamattina, che dà il conto anche di quello che abbiamo fatto in quell'anno, anzi nell'ultimo anno, quando parecchi detrattori dicono che noi non abbiamo fatto nulla. Quindi se da genere il programma è possibile comprendere sia che cosa abbiamo fatto, che secondo me non è poco in un anno, sia quello che andremo a fare nell'immediato, sia quello che in programmazione ha più lunga gittata. Ma perché dovrebbero votarti? Perché penso di avere dato ampia dimostrazione di serietà. Al di là di quello che si dice sulla simpatia o meno, io penso sì, capisco che un sindaco debba apparire anche simpatico, però penso che poi alla fine debba soprattutto risolvere i problemi di una comunità, perché il sindaco può essere simpatico, ameno e così via, ma d'altra parte se poi non risolve i problemi o li crea, penso che è preferibile tenere un sindaco magari un po' più musone, ma quantomeno che risolve i problemi.